ecco lo stile romani ragazzi riaccici quanti carichi pimpanti a zine canale un altro video insieme buona serata a tutti quanti e ovviamente come sapete ha parlato a leghi alle due del pomeriggio anticipando un po quello che sarà il momento sfrosinone partita da uno stato volontario secca come sappiamo che sarà valevole per le semifinali quindi chiaramente i ciocciari allenati da di francesco proveranno di tutto per tutto per poterci battere magari ripetendo appunto una prestazione simile a quella fatta al maradona contro napoli comunque in disarmo e in calo netto però sempre una squadra da prendere con le pinze ha appunto attenzionato la difesa parlando proprio di pigrizia difensiva con diversi errori che ci potevano costare caro fondamentalmente abbiamo preso solo pochi punti per strada nonostante questi sbarioni ricordando che sandro e costi sono maggiori indiziati a fare errori poi avendo stato quello di gatti contro la salaritana poi in coppa italia però diciamo che la corsia sinistra è quella un pochino un po più deboluccia parleremo appunto di questo di chi ci sarà e chi non ci sarà in base agli infortuni e gli acciacchi che ci sono healing tra rinnovo e disponibilità appunto nella partita proprio di coppa italia di domani un aneddoto sugli ascolti televisivi che fanno capire ancora una volta quanto la juventus sia in tendenza rispetto a tutte le squadre d'italia anche nei dati riguardanti le pay tv poi due cose su ken che ormai come abbiamo detto andrà in presito però dovrà prima rinnovare il contratto per poi andare in una squadra tra monza lecce bologna o fiorentina tutte squadre comunque interessate da giocatore chiaramente ci sarà da vedere appunto la formula con cui andrà la e poi ovviamente anche questo summit fatto da gravina recentemente diremo giusto due parole con appunto tutte le squadre delle varie leghe e in cui si proporrà una nuova formula un nuovo sistema calcio da adottare parto con i saluti ringraziamenti a tutti gli iscritti ragazzi benvenuti in community lo stivello magno va accogliere con un grande abbraccio forte forte un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione ad ore tra questi tutti i meravigliosi strabilianti abbonati allora come stavamo dicendo quello che si evince dalla conferenza stampa di allegri vlaovic sarà della partita nonostante abbia smaltito da poco una febbre quindi fortunatamente lo avremo e quindi là davanti c'è il dubbio tra il dits milic o milic vlaovic perché ci potrebbe essere anche questa sorpresa di vedere dal primo minuto il dits che troverà sempre più spazio ed è una cosa doverosa perché è un giocatore che sta dimostrando veramente il suo grande talento e appunto avendo bisogno di spazio ken come detto libererà questo spazio e poi speriamo non sulle come dicevamo stamattina perché è un giocatore che secondo me può veramente tornare utile anche per cambiare il modulo in un 3 4 3 a un 4 3 3 però anche lì ci vorrà una crescita anche mentale psicologica dei ragazzi mattia sull'argentino ecco l'altra notizia chiesa out lo sapevamo non ha ancora recuperato purtroppo dal disturbo al ginocchio ci sarà come dicevamo il 16 gennaio contro il sassuolo in casa partita molto importante dovremo rivendicare il 4 a 2 dell'andata e poi altra cosa importante da dire rabbio fuori ma senza che potrebbe pesare molto e non ce l'avremo proprio cioè non riusciremo neanche a farlo subentrare durante la partita se dovesse mettersi mali quindi sarà fondamentale che tutti quelli che saranno presenti anche nonce nicolussi daranno il loro sostegno loro supporto in una partita delicata in cui non si può partire male come con la sala di tara perché il frosinone è una sticella un po superiore rispetto alla squadra di inzaghi quindi qui molto importante ecco diciamo il nocciolo più importante della questione della conferenza a parte il discorso delle 400 panchine il passato di quinquennio e tanti altri aneddoti è il discorso legato alla difesa si stanno prendendo diversi gol non tantissimi perché comunque non ne abbiamo presi in maniera sconsiderata comunque sempre meno di un gol a partita preso però nelle ultime partite si è preso gol in maniera facile tutto qui perché prendere un gol fondamentalmente se l'altra squadra manovra bene e ti diciamo ti imbriglia può capitare ma abbiamo preso proprio di gol di disattenzione individuale da evitare in maniera assoluta perché in serie a bisogna veramente in qualche modo alzare quella sticella e evitare errori veramente di distrazione di pigrizia fondamentalmente no nel non rincorrere dei palloni che sembrano persi e poi gli avversari ci credono e ti fregano no e ti dribbano ecco altra cosa importante healing healing nonostante le voci le varie bufale eccetera secondo me rinnoverà il contratto fino a 2028 e difficilmente questo rinnovo sarà propedeutico a una sessione perché healing venduto per 15 20 milioni è una follia giocatore che è destinato a diventare un top nella sua fascia sinistra costis per me non sarà il futuro e verrà presto o ceduto e quindi servono dei ricambi come ho già detto healing probabilmente avrà le potenzialità di diventare anche un titolare della nazionale saudi dell'inghilterra che andrà in spedizione all'euro 24 e sarà tra le favorite per la vittoria quindi è fondamentale rinnovarlo ok nel nuovo progetto tecnico di linea verde dei giovani ecco ha preso una piccola botta come vi ho detto al polpaccio però niente di grave ha smaltito comunque anche l'affaticamento dopo la partita molto ben giocata contro la serenitane quindi non dovrebbero esserci problemi io spero che parta dal titolare in quella fascia sinistra dove abbiamo bisogno di partire subito con un grande sprint e puntare l'uomo perché come ha detto anche l'inghilterra in alcune partite se tu ti rendi sempre pericoloso ogni volta che hai il pallone tra i piedi puntando l'uomo continuamente creando sua priorità numerica allora ecco hai diverse possibilità di creare dei pertugi anche in attacco e quindi è fondamentale che healing abbia più spazio nelle prossime partite e sarà lui a dovessi guadagnare comunque la fiducia di tutti quanti dello staff ecco importante dirlo come ho detto ken ahimè è un giocatore che in questo momento ha preso morto ricordiamo che noi l'avevamo praticamente preso a 38 milioni giocatore che è una riserva autentica ha fatto pochissimi gol da quando è arrivato e prende 5 milioni minimo di ingaggio quindi darlo in presto per vedere poi il futuro se venderlo potrebbe essere un'ottima cosa come ho detto resta da valutare la formula appunto tra trasferimenti presto e quanto prolungare il contratto a ken quindi vede monza e fiorentina in questo momento sono in vantaggio su tutte le altre che abbiamo citato tra l'altro la fiorentina complimenti che ha passato il turno con italiano ai rigori rischiando molto contro tiago volta e bologna 5 a 4 però semifinale aggiudicata quindi anche loro questa volta punteranno alla finalissima come ha fatto l'altra volta l'anno scorso perdendo con l'inter di misura 1 a 2 ecco ascolti tv importante dirlo perché ancora una volta la dimostrazione che la juventus crea più appeal e più hype rispetto all'inter ea tutte le altre è doveroso dirlo quindi l'inter è sotto di circa 100 mila utenti di ascolto è intorno a 1 milione 200 mila un po più di filata 927 mila comunque questo ripeto fa capire che la juventus è indispensabile per tutto il sistema calcio e per tutte le pay tv perché crea veramente un grandissimo valore di ascolti e quindi insomma è tutto diciamo quello che gira intorno all'universo juventus porta soldi e porta all'economia nel mondo del calcio italiano quindi è una pazzia dare contro la juventus come diceva anche Ravezzani che si doveva in stadio il dare contro la juventus può diventare veramente un vizio e un hobby pericolosissimo perché le ripercussioni sono gravi e adesso tra l'altro il vento è cambiato perché tutte le società anche milano Roma Lazio e Napoli si stanno accorgendo di questa egemonia truffaldina dell'inter e cominciano a alzare il sistema popolare e il sentimento popolare contro l'inter quindi il vento sta cambiando da juventus verso inter perché tutti si stanno accorgendo chi sono quelli che di ripo di raffa manipolano il VAR ecco quindi questa era una cosa fondamentale da dire ecco per concludere come vi ho detto gravina ha fatto un meeting oggi tra l'altro anche per decidere per la superlega con Abodi ma approfittando di questa situazione ha anche diciamo radunato tutte le società delle leghe calcistiche per parlare di una nuova formula del sistema calcio quindi anche probabilmente riducendo il numero delle squadre di Serie A, Serie B e Serie C l'obiettivo è portarle tutte a 18 squadre ditemi la vostra bel pollicione scrivetevi al canale e attivate la campanella a presto come sempre grazie di esserci un abbraccio forte da me e da Nila come sempre vi ricordo prima di concludere scrivetemi prima di anche su Stivello Magno Facebook aggiustetemi nel gruppo come amico vi farò avere anche lì tutte le notifiche che dovessero arrivarvi tramite YouTube a presto come sempre forza Juve fino alla fine